E' stato un agente del commissariato dei Cumani di Napoli in vacanza a Ischia a riconoscere in un ristorante Giuseppe del Prete, secondo gli inquirenti boss del clan Mazzarella arrestato nella tarda serata di ieri sull'isola verde. Il poliziotto si è subito attivato consentendo in poco tempo di far scattare il blitz durante il quale del prete è stato bloccato. L'uomo si trovava sull'isola da alcuni giorni ed era tenuto sotto controllo dagli uomini del locale commissariato di polizia guidati da Ciro Re, che sono intervenuti quando si trovava a tavola in un noto ristorante in via Borbonica e lo hanno arrestato. Del Prete è stato condotto nei locali del commissariato di via delle Terme, poco dopo all'esterno è arrivato un gruppo di amici e parenti. Il boss è stato così trasferito a Poggio Reale dove dovrà scontare una pena di sei anni di reclusione.